Un thriller avvincente che racconta con un linguaggio fluido e a tratti insolitamente leggero e ironico la nuova indagine dei fratelli Corsaro su un macabro ritrovamento che innescherà tutta una serie di avvenimenti. La tana del serial killer è il settimo libro incentrato sulle vicende dei due fratelli, giornalista uno e avvocato l'altro, che sono anche le voci narranti del romanzo. Roberto e Fabrizio, i due personaggi creati dalla penna del giornalista e scrittore Salvo Toscano, sono stati i protagonisti del terzo e ultimo appuntamento dei mercoledì di cronaca, che è andato in scena ancora una volta nella suggestiva terrazza del Bosco Littorio. L'autore, direttore di Live Sicilia, è una delle firme più apprezzate del giornalismo nazionale e oggi è considerato uno degli autori emergenti della scuola palermitana del Noir. Ho diversi autori molto bravi, li conosco, sono amici, ho avuto il piacere di presentare i loro libri, penso a Gaetano Savatteri, a Cristina Cassarscali, c'è sicuramente una grande voglia di Sicilia nei lettori. Mi ha colpito quest'estate a Ferragosto, eravamo nella classifica dei top 20 della narrativa italiana, c'erano sette romanzi scritti da siciliani, uno era il mio, ma erano sette, sette su venti, vuol dire che nei lettori c'è evidentemente una passione, un'attrazione verso la Sicilia. Nel libro c'è anche tanta Sicilia con i colori e le atmosfere di Palermo e di Catania, ma anche di angoli sconosciuti e affascinanti dell'isola come Contessa Entellina, il piccolo paesino in cui vive una comunità albanese, da cui si dipana una trama avvincente in cui ogni pagina si arricchisce di un nuovo indizio o di un nuovo colpo di scena. Nulla è come sembra, il killer sembra quasi assente, a parte delle breve incursioni all'inizio delle tre parti in cui si divide il libro, non è parte viva del romanzo. Protagonisti assoluti invece, i due fratelli Corsaro, che sono anche le voci narranti dell'intero racconto. Roberto e Fabrizio Corsaro sono un avvocato e un giornalista, e indagano spesso su casi molto complicati per ragione del loro lavoro. Sono nati dalla mia esigenza di avere un doppio protagonista, perché questa cosa, quando ero giovane, mi fece immaginare che mi avrebbe reso i personaggi più sopportabili col tempo, altrimenti un protagonista solo col tempo poi magari ti fa antipatia. E fu una buona idea, perché ancora dopo tanti anni i fratelli Corsaro li reggo bene, voglio entrambi molto bene, e in questo romanzo credo che sia abbastanza in forma, perché interagiscono molto bene nell'indagare su questo mistero che comincia con una testa ritrovata in una grotta. Un giallo che sa anche essere ironico e dissacrante, specialmente quando si prende gioco di tanti luoghi comuni della società moderna, ma che sottotraccia nasconde anche una critica anche a vicende vecchie e nuove della Sicilia, dalle interferenze degli apparati dello Stato alla mala giustizia. Un intreccio inaspettato di realtà e fiction, condito da citazioni musicali dei gruppi più diversi, dalle Zeppelin a Radiohead, per arrivare ai Beatles, vero fil rouge di ogni capitolo del libro. Un libro intelligente che disegna pezzi di una società in continua evoluzione, che probabilmente non sarà l'ultimo raccontato dai fratelli Corsaro. Dopo due incontri dedicati alla musica Unplugged, la serata di ieri è stata impreziosita da una vera e propria band, un power trio composto da Maria Vittore Sammito alla chitarra, Emanuele Scarpa al piano e Daniele Cimino alla batteria, che ha accompagnato le voci di Giorgia Parisi e Sofia Di Dio.